Chi te l'ha fatto questa? No, nessuno, ho sbattuto contro un'armadetta lavoro. Tu devi stare lontano a quell'infame. Non sono la tua donna e non lo sono mai stata. Volevo solo incassare un assegno. Stai zitta, vai con gli altri, dai. Sbrigati, vai! Devi essere come sei. E allora perché non mi credi? Io ti credo, Marco. Non è per questo che ho buono di amarti. Tu sei un'idealista. Uno che rincora ancora il sogno di una vita migliore. Io ho perso le speranze. Ce l'ho non più a me. Però mi vuoi vedere? Tu me la rimarcio, che mi affelena. E allora proviamoci, Sonia. Ce la facciamo insieme, te lo prometto. Ci penso io a te. No, Marco. Io voglio i soldi. Io così non ci voglio vivere. Tu puoi portarmi fuori da qui? Tu puoi portarmi fuori da qui?